La salubrità dell'aria è un'ode di Parini. La salubrità dell'aria è stato composto da Giuseppe Parini nel 1759. Si pone quindi in una fase, non dico iniziale, ma di prima maturità dell'opera di Giuseppe Parini. Per esempio, in genere, si è portati a suddividere le varie odi che lui ha scritto in almeno due grandi categorie, le odi civili da una parte e le odi invece più letterarie, neoclassiche, chiamiamole così, verso la fine della vita. In mezzo ci sono anche i capolavori come la caduta, che è l'ode universalmente riconosciuta come la più bella, la più significativa, anche per comprendere Giuseppe Parini e la sua esperienza in qualità di poeta nella Milano del tempo e quindi anche la sua coerenza etica. Ecco quindi che la salubrità dell'aria fa parte del primo grande gruppo di odi, che sono le cosiddette odi civili. Sono quelle che vengono fuori anche dalla adesione di Giuseppe Parini ad alcune nuove idee, che sono quelle di un illuminismo moderato di cui lui si fa portatore. Infatti lui apparteneva ad un'accademia che si chiamava l'Accademia dei Trasformati. Ebbene, l'Accademia dei Trasformati era caratterizzata da una certa moderazione, ma anche da una certa apertura a quelle che erano le nuove idee che giungevano d'oltralpe. Al contrario invece l'Accademia dei Pugni era decisamente più progressista, diciamo così, ed era un po' quella collegata anche con la rivista del caffè. Comunque Pietro Verri fece parte anche di questa Accademia, cioè di quella dei Trasformati, insieme a Giuseppe Barretti e lo stesso Cesare Beccaria. Parini aderisce a questa Accademia nel 1753. Il tema proposto è di un'attualità eccezionale, cioè è il problema dell'inquinamento ambientale. Quindi ritengo che una tematica di questo genere rivesta per noi un interesse particolare, perché noi sappiamo, conosciamo, siamo consapevoli di come l'uomo abbia inquinato l'ambiente molto molto di più di quanto lo erano consapevoli gli uomini del XVIII secolo, tranne alcuni illuminati appunto, cioè tranne alcuni che usavano la ragione e avevano capito che effettivamente la gente, ad esempio adesso vedremo i contandini milanesi, stava abusando dell'ambiente, stava abusando delle risorse naturali senza nessuna accortezza, senza nessuna avvedutezza e quindi con delle ripercussioni che già erano abbastanza consistenti, lo vedremo, nella Milano, diciamo, nella Lombardia del tempo. Certo, i problemi ambientali del 1700 sono diversi, lo vedremo, rispetto ai problemi ambientali odierni. Ad esempio, mentre oggi come oggi possiamo parlare di inquinamento da combustibili fossili o da altre sostanze chimiche, nel 1700, lo vedremo, Parini lamenta soprattutto un inquinamento da sostanze organiche umane, ecco, lo vedremo nella maniera insomma un po' più diretta, esplicita, ecco. Quindi le problematiche sono diverse, però l'incuria, la disattenzione sono qualcosa che, ahimè, ha caratterizzato, insomma, Milano, se vogliamo, già da quei tempi. È chiaro quindi che questi accademici, discutendo fra di loro, sostengono la necessità del miglioramento delle condizioni ambientali. Parini tratta quindi un argomento di stringente attualità, però con i suoi mezzi. Lui è un poeta e quindi sicuramente si tratta di odi civili, quindi con un intento realistico, sta parlando di problemi reali, ma al tempo stesso anche intrise di suggestioni classiche. Vedremo, per esempio, dal punto di vista dello stile parole arcaiche, ecco, utilizzate da Giuseppe Parini. Sicuramente, diciamo, lui è un poeta che risente di quello che abbiamo detto il neoclassicismo, soprattutto poi nell'ultima fase della sua vita, ma comunque già adesso è un poeta che ha grande rispetto per la tradizione, grande conoscitore, diciamo, della tradizione letteraria classica. L'ode è collegata a tante altre affini, diciamo, che parlano di questioni simili, quindi di questioni ambientali o comunque di problemi di grande attualità, la musica, per esempio, insomma, ci sono varie denunce, se vogliamo, velate, moderate, però chiare, nette, attraverso le poesie civili, le odi civili di Parini in questo periodo. Si apre quest'ode con una invocazione della campagna dove lui è nato, diciamo, di origine di Giuseppe Parini, insomma, praticamente l'abrianza, in particolar modo Bosisio, che oggi si chiama infatti Bosisio Parini, è il suo paese di origine, e il lago di Pusiano. Tuttavia la celebrazione di questo ambiente bucolico non dobbiamo più intenderla alla maniera degli arcadici, cioè della poesia dell'Arcadia, un po' manierista. Quindi abbiamo una precisa collocazione, spaziale, temporale, per esempio, i poeti arcadici parlano sempre, è vero, di una natura bucolica, ma idealizzata e non realistica. Invece Giuseppe Parini parla di un posto proprio che ben conosce, che appunto è l'abrianza da cui lui proviene. Ha dei ricordi autobiografici precisi, non così vaghi come spesso accadeva nelle poesie degli arcadi o arcadici, cioè di quelli dell'Accademia dell'Arcadia, che erano prevalenti a cavallo fra 600 e 700 nello scenario della letteratura italiana. Parini individua nelle terre della sua infanzia un mondo protetto e felice rispetto all'insidio della città, dovute soprattutto all'inquinamento e all'incuria dei cittadini milanesi. Quindi l'eterno confronto, l'eterno paragone fra città e campagna, con una grande avversione nei confronti di una città incurante, disattenta, inquinata già all'epoca, rispetto ad una campagna così incontaminata, così pura. Emerge quindi una nuova poetica che rimanda al principio oraziano dell'Ars poetica del miscere, misceo, quindi miscere, scusate, miscere utile dulci, cioè mescolare l'utile al dolce, cioè mettere dentro un contenuto utile, importante da denunciare, da segnalare, esprimere questo contenuto volevo dire però attraverso una forma dolce, cioè una forma, come dire, raffinata. Abbiamo quindi una sorta di messaggio civile, chiaro e recepibile, attraverso però un divertissement letterario. Il miglioramento della qualità della vita collettiva parte dall'impegno concreto di ciascuno nella vita di tutti i giorni, ma tutto questo Giuseppe Parini lo vuole esprimere con una poesia bella. Parini elabora quindi qua alcune tematiche illuministiche diffuse nel gruppo dei trasformati e sceglie uno stile alto e letterario che si adatta al contenuto realistico dell'ode e al messaggio etico del poeta. La lingua pariniana vicina qui a pagina del giorno, anche il giorno, lo sappiamo, è un poeta, scusate, è un poema in cui Giuseppe Parini denuncia delle storture dell'attualità, ad esempio in quel caso la passività, l'incapacità di essere attivi e di essere quindi solidari con gli altri dei giovani aristocratici della sua epoca. Qui dicevamo, comunque anche come nel giorno, abbiamo latinismi, termini colti, tecnicismi. Per quanto riguarda la sintassi prevale l'ipotassi rispetto alla paratassi, cioè praticamente prevale la subordinazione, quindi una sorta di periodare appunto nello stile classico. Poi sono parecchi gli iperbati, quindi diciamo le inversioni, e gli enjaman. Si tratta di una poesia abbastanza lunga e vi è comunque un legame nel pensiero, nel discorso, che viene ben reso con questi enjaman che rompono il ritmo rapido dei settenari piani. Praticamente la poesia è fatta di strofe di sei versi, quindi di sestine, di settenari che hanno una rima alternata nella prima, seconda, terza e quarta rima, quindi primo, secondo, terzo e quarto verso, e invece una rima baciata nel quinto e sesto verso, secondo lo schema A, B, A, B, C, C. La strategia, insomma, è quella di servirsi di uno stile nobile per trattare argomenti bassi, ahimè, talvolta anche un pochettino disgustosi. Insomma, si parlerà di, come dire, di defecazione, ecco, mettiamola così, ecco, di latrine, no? Quando si rovesciano le latrine in strada, ecco queste, come dire, queste abitudini veramente ripugnanti dei cittadini milanesi, oppure ancora nella raffigurazione dei cadaveri degli animali in decomposizione. Quindi sicuramente sono argomenti anche abbastanza crudi, ma lui li tratta con questo stile che rende un po' lieve il tutto. Per esempio, appunto, presentandoci, se vogliamo, non dico in un modo eufemistico, però sicuramente con dei termini abbastanza raffinati, alcune pratiche, ahimè, purtroppo, piuttosto basse e ripugnanti. L'obiettivo del poeta è quello di farsi voce e critica contro la nobiltà e la classe dirigente, inadatta e incapace di provvedere al bene comune, interessata solo ai suoi profitti, ai propri profitti privati, derivanti ad esempio dalla coltivazione delle marcite o delle risaie nei pressi della città che favoriscono, diciamo, clima fetido o comunque umido e quindi proliferare di animali o comunque di, diciamo, di situazioni poco salubri. Ecco, appunto, la salubrità dell'aria, dell'aria di Bosigio Parini, del lago di Pusiano, contrapposta all'aria insalubre della città e dei suoi dintorni. La tematica dell'aria, attraverso lo strumento della poesia, diventa così una questione di responsabilità civile e sociale che coinvolge tutti, così come tutte le altre tematiche che sono presenti nelle altre odi che noi abbiamo letto e che leggeremo. Una, abbiamo già detto, è la caduta che abbiamo letto a più riprese e anche in vari pezzi, anche in classe. Bene, iniziamo a leggere pertanto questa poesia di ventidue strofe di settenari con lo schema di rime e l'abbiamo già detto AB, ABCC. O beato terreno del vago Eupili mio, ecco al fin nel tuo seno m'accogli e del natio aere mi circondi e il petto avido inondi. Ecco, abbiamo detto che si apre, quindi questa poesia con una sorta di grande respiro insomma molto coinvolgente, l'ambientazione insomma del lago di Pusiano. Ecco, qui per esempio c'è da dire che fra le altre odi civili che leggeremo e commenteremo insieme abbiamo la vita rustica sui benefici della vita campestre, quindi un po' approfondendo un tema che, come vedremo, è già presente in questa poesia. Lì però senza contraposizioni con la città, nella vita rustica si presenta, quasi abbracciando certe teorie fisiocratiche, si presenta un'esaltazione del lavoro dei campi e dei benefici appunto della vita campestre. Nell'innesto del vaiuolo, che invece è un po' più tarda, del 65, abbiamo l'esaltazione delle innovazioni nel campo della profilassi medica, quindi primo vaccino, quindi come dire, sono delle cose che, come ben sappiamo, hanno ancora oggi molto risalto nelle pagine della cronaca. Abbiamo già parlato, ah sì, poi c'è il bisogno sulla riforma legislativa che prevenga i crimini anziché punirli in modo crudele e violento con la tortura alla pena di morte, come abbiamo già detto anche l'altro giorno ricordando insomma il testo di Cesare Beccaria, e la musica contro la pratica di evirare i giovani cantanti perché all'epoca c'era la moda di sentire queste voci di bambini oppure di alcuni che ormai non erano più bambini ma dovevano rimanere tali, perché il pubblico, perché il popolo amava questo tipo di performance, amava questo tipo di musica, a discapito di quei poveri ragazzi che insomma addirittura dovevano subire delle evirazioni per poter continuare a cantare da bambini anche quando non lo erano più. Bene, adesso andiamo però a parafrasare, dopo questa lunga premessa andiamo a parafrasare i primi versi di questa poesia. Oh beata, inizio proprio con un'esclamazione, come dire un trasporto personale a favore di questi luoghi così incontaminati. Beata terra del vago Eupili mio. Eupili infatti è il nome latino del lago di Pusiano che si trova vicino a Bosisio, in Brianza dove il nostro poeta è nato. Il toponimo è usato anche nella prima raccolta poetica dell'autore quando lui si spaccia per Ripano Eupilino. Ripano è quasi una gramma di Parini, mentre Eupilino sarebbe del lago di Eupili, cioè che è nato vicino al lago di Pusiano. Accoglimi, ecco finalmente mi accogli nel tuo seno, nel tuo grembo dice metaforicamente insomma che la sua terra natale lo accoglie e del natio aere, notate i due jammat, seno mi accogli, natio aere mi circondi e il petto avido inondi e quindi riempi il mio cuore. Già nel polmon capace urta se stesso e scende quest'etere vivace che gli egri spiriti accende e le forze rintegra e l'animo rallegra. Allora le forze rintegra e l'animo rallegra per la rima baciata che termina questa sestina, insomma questa strofa. Già risente positivamente di quest'area diciamo di campagna, di quest'area familiare e quindi dovete sapere che Giuseppe Parini era abbastanza malato, malaticcio, lo sappiamo, l'abbiamo visto con l'ode della caduta di come per esempio fosse claudicante e quindi molto debole di salute. Però per fortuna quest'etere vivace, cioè quest'area pura di campagna lo riconforta e riesce ad accendere gli egri spiriti, cioè riesce a risollevare l'animo ammalato di Parini e reintegra le forze e rallegra l'animo, ecco i famosi iperbati di cui parlavamo prima, cioè le inversioni, invece di dire rintegra le forze e le forze rintegra, invece di dire rallegra l'animo e l'animo rallegra, cioè invertendo oh mamma mia qui intanto c'è qualche problema di connessione su Instagram, cioè invertendo l'ordine usuale sintattico che vede prima generalmente il predicato verbale e poi il complemento oggetto. Però Caustro scortese qui i suoi vapor non mena e guarda il bel paese alta di monti schiena cui sormontano non vale borea corrigi ale. Praticamente è un clima ideale, quello della campagna, quello dell'abrianza. Mi viene un po' da ridere perché dovete sapere, lo sapete sicuramente, che oggi come oggi l'abrianza è molto meno incontaminata rispetto all'epoca, è anzi molto antropizzata, industrializzata, è comunque non più pura, ecco come una volta, però all'epoca lui dice questo in buona sostanza, cioè dice che lo scirocco è nocivo, l'austro sarebbe il vento che arriva da sud, è scortese, scortese nel senso che è dannoso, qui però non mena i suoi vapor, cioè non porta qui questa brezza, questi vapor che sono insalubri, lo scirocco e protegge il bel paese, guarda il bel paese alta di monti schiena, ah qui c'è ancora l'inversione, c'è praticamente una catena di monti che è la catena dei monti per esempio della Grigna, del Resegone, guarda il bel paese, cioè protegge questa zona, cui sormontan non vale boria con rigidale, tanto che la tramontana qui non riesce a giungere, la tramontana che è il vento opposto ad austro, cioè il vento che proviene da nord, non riesce a valicare queste montagne e quindi a imperversare su questa campagna. Ne qui giaccia un paludi che dall'impuro letto mandino i capi ignudi, nuvol di morbi infetto, e il meriggio ai bei colli asciuga i dorsi molli. Che vuol dire? Qui non stagnano delle paludi, come adesso vedremo invece presso le risaie che si trovano nel milanese, che dal fondo impuro, letto impuro quindi limaccioso, mandano verso le vette non protette, mandino ai capi ignudi nuvol di morbi infetto, una nebbia infetta di malattie, e il meriggio, cioè il sole di mezzogiorno, asciuga i dorsi molli, cioè asciuga i dorsi, quindi per esempio i rilievi collinosi, o i rilievi delle montagne, appunto meglio dei colli perché siamo ancora in una zona più di collina, no, vicino al lago di Pusiano, i dorsi sono bagnati di rugiada, molli per questo motivo, dei bei colli, appunto di questi colli che si trovano in questa zona premontala, diciamo, prealpina, sicuramente. Andiamo a leggere l'altra strofa. Pera, pera, perisca, moia, colui che primo, alle triste e oziose acque e al fetido limo la mia città despose, e per lucro e bervile la salute civile. Beh, questo è un, come dire, è un ambiente naturale favorevole, se vogliamo anche per il milanese, in buona sostanza anche Milano può godere di questa collocazione, di questa protezione, ad esempio, dei monti e di questa, come dire, ambientazione, buona ambientazione di per sé che potrebbe favorire anche un buon clima, un buon ambiente anche nella città di Milano. Ma purtroppo qualcuno ha pensato diversamente. Allora, moia, che vada a morire colui che per primo ha esposto la mia città, quindi la città di Milano che è diventata ormai sua. Lui a quest'epoca, nel 1759, lavora per i Serbelloni, sono dei nobili milanesi, e quindi diciamo che la sua città di elezione, di scelta, nel senso che lì lavora e si trova a vivere anche contento, ricordate il discorso che abbiamo fatto dell'Accademia dei Trasformati, anche contento e indubbiamente del clima culturale che si può respirare in questa città. Clima culturale positivo e salubre, ahimè, invece, clima ambientale assolutamente non così salubre. Per colpa di qualcuno che per primo ha esposto questa città alle triste e oziose acque, insomma alle infide acque stagnanti e al fetido limo e al fango maleodorante, e per lucro per guadagnare, ebbe a vile la salute civile, disprezzò la salute dei cittadini. Quindi, decidendo di coltivare, per esempio, a riso, grandi immense campagne nei pressi di Milano, ha creato le condizioni per una situazione, un ambiente insalubre. Certo, colui del fiume di Stige ora si impaccia tra l'orribile bitume, onde alzando la faccia bestemmia il fango e l'acque, che a radunargli piacque. Sicuramente, quello che ha avuto per primo questa idea di portare alla coltivazione del riso nei pressi della città di Milano, adesso si trova nel fondo dell'inferno. Ora si impaccia tra l'orribile bitume del fiume di Stige. Insomma, ora è invischiato in quel fango orribile del fiume infernale e del fiume Stige, onde alzando la faccia, dal quale, sollevando il viso, bestemmia il fango e l'acque, bestemmia appunto la pena infernale, qui ci vengono in mente quasi reminiscenze dantesche, che a radunargli piacque. Cioè, è piaciuto in vita, diciamo, a creare un ambiente così fangoso, paludoso, insalubre. Bene, adesso nell'eternità, per contrapasso, un contrapasso per analogia, in questo caso si trova invischiato dentro il fiume Stige. Mira dipinti in viso di mortali pallori, entro al marannato riso i languenti cultori, e trema un cittadino, che a te il soffri vicino. Ecco, mira, in questo caso, vuol dire osserva, guarda, nel senso che, attenzione, il soggetto di questo mira è il cittadino che si trova nel verso paraturo. Quindi tu, cittadino milanese, osserva dipinti in viso di mortali pallori, quindi osserva i languenti cultori, cioè osserva praticamente i contadini, che sono costretti a lavorare dentro queste risaie, ci vengono in mente le mondine, per esempio, e trema, o cittadino, che a te il soffri vicino, e trema perché purtroppo questo loro lavoro, così anche, come dire, portatore di malattie, purtroppo ti è vicino, è vicino la tua città. Io, dei miei colli a meni, nel bel clima innocente, passerò i di sereni, tra la beata gente, che di fatica è onusta, è vegeta, è robusta. Io invece preferisco, mi piacerebbe stare, purtroppo non può farlo sempre, perché, come abbiamo detto, lavora presso una famiglia milanese. Io però, appena mi è possibile, potrei dire, passerò i di sereni, quindi giorni sereni, nel bel clima innocente, nel senso proprio che, etimologico del termine, cioè che non nuoce, che non danneggia, dei miei colli a meni, quindi di queste mie colline così piacevoli, così, appunto, incontaminate, potremmo dire, tra la beata gente, in mezzo a gente felice. Oh mamma, intanto abbiamo, per sbaglio, chiuso la slide e la riapriamo subito. Di fatica è onusta, sicuramente la gente del mio paese di origine, di Bosizio Parini, è carica di fatica, cioè, lavora tanto, però, vegeta è robusta, però, come dire, vegeta, nel senso di, insomma, è veramente, da un punto di vista, è in salute, piena di salute, è robusta, sana, ecco, non mi veniva l'aggettivo, è sana e robusta. Qui, con la mente sgombra, di pure linfe a sterso, sotto ad una frescombra, celebrerò col verso i villan bispi e sciolti, sparsi per li ricolti. Qui, insomma, con la mente sgombra, quindi, intende dire ritemprato, ecco, con la mente libera, sciolta, di pure linfe a sterso, ritemprato in queste acque limpide, sotto a una frescombra, sotto la fresca ombra, celebrerò col verso, quindi con le mie poesie, i contadini villani, vivaci, agili, vispi e sciolti, sparsi per li ricolti, che sono sparsi in mezzo ai campi, e i membri non mai stanchi dietro a crescente pane, e i baldanzosi fianchi delle ardite villane, e il bel volto giocondo fra il Bruno e il Rubicondo. E andrà, quindi, a celebrare, con le mie poesie, l'abbiamo già detto, lo farà addirittura anche in un'altra poesia, La vita rustica, i membri, quindi, salver le braccia, non mai stanchi, ma è stanche, dietro al crescente pane, dietro, quindi, al grano, che matura per metonimia, invece del grano, che appunto si trova nei campi, quello che è il prodotto finale della lavorazione di questi semi, cioè il pane, e i baldanzosi fianchi, e quindi andrò a celebrare i fianchi robusti, delle ardite villane, delle contadine spavalde. E' il bel volto giocondo fra il Bruno e il Rubicondo. Il bel volto allegro di questa gente di campagna, fra il Bruno, abbronzato, anche perché i contadini, ovviamente, lavorando nei campi, spesso avevano un'abbronzatura naturale, diciamo così, e il Rubicondo, il rossastro, che sta a indicare, comunque, la sanità, cioè, intendo dire, proprio la condizione di buona salute. Dicendo, «Oh, fortunate genti, che in dolci tempre quest'aura respirate, rotta e purgata sempre da venti fuggitivi e da limpidi rivi». Che cosa posso dire nella mia poesia per celebrare questa gente di campagna? Sicuramente io potrei dire, «Oh, fortuna, ancora una volta abbiamo detto l'esclamazione, che sta a indicare particolare, come dire, immedesimazione di Giuseppe Parini. «Oh, genti fortunate, che in dolci tempre, quindi in un clima mite, quest'aura respirate, potete respirare quest'aria pura, rotta e purgata sempre, quindi, insomma, messa in moto, e purificata sempre da venti fuggitivi, quindi da venti passeggeri e da limpidi rivi, cioè dai ruscelli». Ecco, quindi, abbiamo detto il clima mite, viene messa in moto, quindi quest'aria è un'aria non stagnante, come quella invece delle paludi vicine a Milano. «Ben larga ancora natura fu alla città superba di cielo e d'aria pura». Dobbiamo dire, comunque, l'abbiamo già anticipato prima, che di per sé la natura non è stata ostile, diciamo, inizialmente, anzi, non è stata ostile lei, la natura, alla città di Milano, anzi, sicuramente fu generosa, larga, prodiga, nei confronti della città di Milano. La città superba, città grandiosa, medio lanum, diciamo, una capitale, addirittura anche sin dai tempi dell'impero romano, come ben sappiamo. Pura d'aria e di cielo, quindi pura nel cielo e nell'aria la città di Milano, dal punto di vista naturale. Ma chi bei doni orserba tra il lusso e l'avarizia e la stolta pigrizia, questi sono stati i doni della natura, che la natura ha dato alla città di Milano, ma che i milanesi non hanno saputo conservare, mantenere. Chi, infatti, dice adesso con una sorta di interrogativa retorica, chi conserva ora quei bei doni in mezzo al lusso e all'avidità l'avarizia, e alla stolta pigrizia, la stupida inettitudine, la pigrizia che abbiamo già visto, caratteristica del Giovin Signore, quella cantata appunto nel poema del giorno. Insomma, qui abbiamo avarizia, un latinismo, perché infatti, in questo caso, avarizia non vuol dire semplicemente mantenere il denaro per sé, ma soprattutto l'avidità e la sete di ricchezze che ha spinto, ad esempio, i milanesi a investire, in un certo modo, i propri soldi, anche a discapito del bene comune, come abbiamo visto prima con le coltivazioni di riso. Ah, e non bastò che intorno putri di stagna avesse? Non bastò che intorno alla città ci fossero già degli stagni putridi, anzi, a turbarne il giorno, sotto alle mura stesse, trasse gli scellerati rivi a marcir sui prati. Anzi, a rovinare la propria atmosfera, Milano condusse, sotto le sue stesse mura, canali per irrigare i campi. Quindi, di per sé, c'erano già, naturalmente parlando, degli stagni putridi nei pressi della città. A peggiorare la situazione, i milanesi hanno costruito tanti, tanti canali che hanno, appunto, ecco qui, Milano viene quasi personificata, quel trasse di scellerati rivi, ecco, diciamo, ha come soggetto sottinteso la stessa città di Milano, che ha operato affinché ci fossero sempre più condizioni ambientali insalubri. Si riferisce in particolar modo qua, il nostro Parini, alle marcite, una tecnica di coltivazione per cui i terreni sono sempre immersi nell'acqua, sia nella stagione invernale che in quella estiva. Questo metodo effettivamente rende i campi molto fertili e permette raccolta di formaggio più frequenti, con cui alleviare il bestiame oppure i pregiati cavalli dei nobili, però purtroppo ha delle ripercussioni ambientali abbastanza gravi. Qui è la comun salute sacrificossi al pasto ad ambiziose mute che poi con crudo fasto calchin per l'ampie strade il popol che cade. Ecco, quindi, la salute comune, il bene comune, sacrificossi, si sacrificò, fu sacrificato, al foraggio, al pasto di ambiziose mute, notate la dieresi, ambiziose, cioè praticamente il foraggio delle pariglie di cavalli, insomma, dei pregiati cavalli dei nobili che messi in coppia l'uno a fianco all'altro guidavano i carri che poi con crudo fasto calchin per l'ampie strade il popolo che cade che poi questi questi cavalli diciamo assoggettati che servivano per trainare i calli con crudele superbia con crudo fasto calpestano per le ampie strade il popolo che cade il popolo che non si regge in piedi e qui abbiamo praticamente una sorta di riferimento all'ode e la caduta cioè ci sono questi carri che scorrazzano a velocità esagerata nella città di Milano e la gente cade questo fa riferimento anche a quello che è accaduto vi ricordate la oda e la caduta allo stesso Parini che è caduto per strada poi per fortuna una persona umana che ha dimostrato la sua attenzione e la sua civiltà l'ha aiutato ad alzarsi però ecco provate a immaginare anche questo come quasi profetico perché allora comunque i carri anche quando andavano al massimo della loro velocità raggiungevano delle velocità neanche lontanamente paragonabili a quelle a cui possono arrivare gli autocarri o comunque diciamo così le automobili che scorrazzano per la città di Milano e per tutte le altre città oggi come oggi a voi il timo il croco e la menta selvaggia l'aere per ogni loco dei vari atomi in raggia che con soavi e cari sensi pungon le nari a voi si intende ovviamente stavolta ritornando alla alla campagna credo il timo e il croco beh il timo è lo zafferano il croco è la menta selvaggia l'aere per ogni loco dei vari atomi in raggia vuol dire quindi che per ogni luogo queste piante riempiono l'aria di vari atomi quindi di vari profumi qui c'è addirittura una reminiscenza lucreziana il termine atomo infatti probabilmente Parini l'ha assunto dallo studio del dererum natura di Lucrezio possiamo trovare quindi se vogliamo in alcuni brani di Parini sia da un punto di vista contenutistico qui vediamo addirittura anche dal punto di vista dell'utilizzo della terminologia tecnico-scientifica reminiscenze lucreziane che con suavi e cari sensi pungolenari si intende quindi che queste piante comunque sollecitano le narici con dolce e gradevoli sensazioni ma quindi forte avversativa al piede dei gran palagi l'ha il fimo alto fermenta invece poi ai piedi dei grandi palazzi dei signori in uno di questi palazzi lavorava lo stesso Parini nel palazzo Serbelloni imputridiscono alti mucchi di letame il fimo il letame alto fermenta e di sali malvagi ammorba l'aria lenta che a stagnarsi rimase tra le sublimi case e di esalazioni nocive i sali malvagi ammorba l'aria quindi infetta l'aria lenta immobile stagnante a differenza vi ricordate di quell'aria così mossa della campagna che a stagnarsi rimase infatti l'aria che rimane a stagnare tra le sublimi case le case sono alte ma l'aria è sempre più irrespirabile nella città di Milano quindi i lari plebei qui i popolani dalle spregiate crete dai vasi ecco spregiate crete sono i vasi da notte che si usavano per i propri bisogni d'umor fracidi e rei versano fonti indiscrete rovesciano quindi senza rispetto fonti indiscrete liquori maleodoranti e nocivi qui abbiamo dopo le mercite abbiamo ahimè purtroppo il letame l'abbiamo già visto e addirittura i lari plebei i lari sono le divinità romane che proteggono il focolare domestico qui abbiamo evidentemente una grande ironia nell'utilizzo di questo termine abbiamo quindi figure classiche che contribuiscono a rendere ancora più ironico quindi con questo linguaggio aulico eccetera quello che invece fanno questa gentaglia dei milanesi che non fanno altro se non praticamente gettare quelli che sono insomma i loro bisogni dai vasini da notte dall'alto dei loro palazzi onde il vapor si aggira e col fiato si inspira per cui purtroppo si questo si esala il fetore e col fiato quindi respirando insomma viene inalato dai passanti spenti animali ridotti per le frequenti vie degli aliti corrotti empion l'estivo die poi ancora ci sono animali morti lasciati lì per la strada ridotti per le frequenti vie cioè abbandonati in mezzo alle strade affollate di città degli aliti corrotti empion l'estivo die insomma riempiono l'aria estiva di esalazioni malsane che portano malattie spettacolo deforme del cittadino sull'orme spettacolo veramente ripugnante per il cittadino che sta camminando e ancora una volta può essere questo riferimento allo stesso Parini che non si può permettere un carro ecco qui ricordate anche la caduta no qualcun altro invece molto più spreggevole aveva suggerito a Parini di inchinarsi di fronte ai signori di fronte ai potenti per poter avere un carro una carrozza per andare in giro per la città senza tutti questi disturbi ma lui dice no preferisco rimanere fedele a me stesso rimanere indipendente e autonomo piuttosto che dover essere servile per poter ottenere qualcosa che possa migliorare diciamo così il mio agio ecco la mia la mia esistenza diciamo all'interno di questa città ecco stavamo dicendo quindi ecco che comunque il cittadino che cammina come appunto il nostro Parini è costretto a vedere uno spettacolo di questo genere cioè cadaveri di animali carogni insomma di animali per la strada lasciati così senza ritegno è tutto quello che viene versato dalle finestre diciamo dei palazzi di cui abbiamo parlato prima né appena cadde il sole che vaganti latrine con spalancate gole lustran ogni confine della città che desta beve Laura molesta appena cala la sera appena cadde il sole i carri dei rifiuti le vaganti latrine con spalancate gole con le loro coperture aperte lustran ogni confine percorrono ogni strada anche questo lustran ha un evidente valore ironico nel senso che altro che lustrare queste vaganti latine sono le navazze stercorarie carri in cui si caricava il contenuto delle latrine per portarlo fuori dalla città però spesso questi carri invece di essere coperti e chiusi in una maniera si può dire ermetica avanzavano senza l'adeguata copertura diffondendo quindi il loro contenuto e recando quindi molestia alla città altro che lustrare altro che illuminare lustran ogni confine della città che desta beve Laura molesta intendo dire quindi che la città i cittadini quindi come il nostro Parini sveglia respira laurea nauseabonda di quello che lasciano questi carri qui vi lari plebei delle spregiate crete d'umor fracidi e rei qui abbiamo letto no abbiamo sbagliato non abbiamo messo gli ultimi versi nella nostra slide c'è un errore proprio di copiatura mancano gli ultimi versi della poesia ve li devo purtroppo leggere senza che possiate leggere dalla slide poiché i versi dal 115 in poi non sono presenti grida le leggi è vero quindi vuol dire che le leggi ci sono le leggi sono contrarie a queste abitudini così moleste e temi bieco guata temi sarebbe la personificazione della giustizia e quindi la giustizia guarda di sbieco questo modo di operare che evidentemente è veramente spregevole grida le leggi è vero le leggi dicono effettivamente che non si può fare possono fare cose di questo genere per esempio lasciare aperte le navazze stercorarie e quindi inondando la città di cose veramente molto molto spregevoli e ci sono le leggi che bieco guata la personificazione delle leggi temi che guarda bieco chi contraviene a queste leggi ma soldi se pensiero ha l'inerzia privata ma insomma la gente che invece non pensa a bene comune cioè l'indifferenza dei singoli pensa solo a se stessa e basta stolto e mirar non vuoi né come un danni tuoi sciocco tu che ti comporti in questo modo non vuoi vedere nei danni collettivi un male anche per te stesso non ti rendi conto che facendo del male agli altri fai del male a te stesso perché rendi insalubre la città in cui vivi quindi diciamo se la prendi con questi insomma cittadini che pensano solamente a loro stessi tutti respirano la stessa aria quindi il danno di uno è danno di tutti quanti ma dove hai corro e vago lontano dalle belle colline dal bel lago e dalle villanelle a cui si vivo e schietto aere ondeggiare fa il petto quindi con una sorta di alternanza dopo essere arrivati a descrivere il fondo possiamo dire la sentina della condizione ambientale peggiore possibile veramente che si sperimenta nella città lui risale insomma a descriverci le sue belle colline le belle colline della Brianza il bel lago il lago di Pusiano le villanelle le contadinelle a cui si vivo e schietto aere ondeggiar fa il petto alle quali l'aria così viva e pura fa ondeggiare il petto immagini quindi di persone sane di persone prosperose come queste villanelle che sono l'esatto contrario dei cittadini milanesi che devono sopportare questi miasmi va per negletta via ognor l'util cercando la calda fantasia che sol felice è quando l'util unir può al vanto di lusinghevo al vanto quasi concludendo come erano soliti fare anche gli scrittori medievali come dire scrivendo le loro canzoni per esempio le canzoni petrarchesche quasi ritornando anche a parlare di se stesso e di quello che ha fatto attraverso questo testo attraverso questa poesia Parini dice va per una via negletta quindi va per una via trascurata avete mai sentito parlare in poesia di cose di questo gener di cose di cui vi ho parlato fino ad ora sembra dirci il poeta ognor l'util cercando ma questa è proprio la prospettiva nuova dell'illuminismo del seicento cioè andare a cercare l'utile nella poesia non quindi qualcosa di fine a se stesso come accadeva anche nell'accademia dell'arcadia ma l'utilità cioè le odi civili le odi che ci rappresentano una finalità etica e civile della della sua poesia secondo il precetto araziano dell'ars poetica di miscere utile dulci cercando sempre l'utile l'utile sociale la mia appassionata fantasia soggetto va attraverso questa via trascurata questa fantasia questa mia poesia che sol felice è quando che è felice solamente quando può unir l'utile unir col vanto quindi può unire l'utile al dilettevole l'utile l'utilità al diletto di un lusinghevo il canto di un canto che dà speranza un canto che nello stesso tempo è piacevole ma un canto anche utile quindi che che ci esprime la speranza insomma di poter cambiare la società di poter migliorare una situazione di degrado ambientale così basso e spregevole calda fantasia è una siestesia bravissimo effettivamente la calda fantasia che si trova nel quart'ultimo verso della nostra poesia questa appassionata ispirazione è anche una sorta di di sinestesia sì e sinestesia ti spiego perché il calore per esempio riguarda uno dei sensi pensiamo per esempio al al tatto quindi noi sentiamo il calore attraverso il tatto oppure se siamo in un ambiente con una temperatura elevata mentre la fantasia riguarda altro riguarda ad esempio l'immaginazione altri sensi o anche al di fuori dei sensi riguarda ciò che nella mente noi andiamo quasi quasi a raffigurarci con una sorta di vista mentale chiamiamola così ecco in quel senso possiamo parlare di calda fantasia come una sorta di sinestesia sinestesia vuol dire quando si mescolano dei campi sensoriali diversi